Direi che si troviamo molto bene, è iniziato molto bene, stiamo lavorando tanto, stiamo cercando di costruire un nuovo progetto per far tornare a Fiorentina. Ecco lo dicevamo tutti, passo con un attimo a Vlaovic che anche lui ha segnato un grandissimo gol di tanto, insomma vuoi studiare i tiposi da Fiorentina? Buonasera a tutti, stiamo lavorando molto, stiamo lavorando bene, dobbiamo imparare, siamo contenti qui, abbiamo iniziato bene, ancora abbiamo lavorato a tutti noi. Perfetto, ultima domanda invece per il dottor Bo, dal sole del Brasile al vento e alle valli del Fiorentino, come si sta qui? Ciao, buonasera a tutti, sono molto contento di tornare qui a Moena, il tref sono il filo che faccio presto, sono molto felice. A Brasile era già un po' freddo dentro perché è l'inverno, però qui ci sto molto bene perché è tutta la squadra.